e ciao ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qui per iniziare la carriera su NBA mobile si io ho anche il gioco sulla playstation ma visto che nel 2016 è sempre buono alla fine ci gioco parecchio però mi piacerebbe anche fare qualcosa sui giochi mobile quindi per telefono infatti tra qualche giorno iniziamo questa qui poi inizieremo anche la carriera sul football americano altro gioco sempre che potete scaricare gratis basta anche che scrivete gli esports riescono quelli dalla box football americano calcio basket anche star wars qualche altra cosa mi piacerebbe fare anche questi video qui anche real racing mi sono ricordato sarebbe una bella cosa infatti oggi iniziamo quella del basket dell'nba praticamente faremo la prima partita da qualche giorno poi inizieremo anche la carriera come ho detto nel football americano devo scegliere anche un po la squadra e in quella su fifa mobile le le stagioni che durano un po di meno ma ne sono tantissime scaleremo fino ad arrivare magari anche alla serie a e magari vincere anche la vincere anche la serie a vediamo un po come andrà il fatto però oggi iniziamo quella del basket la mia squadra io ho scelto lakers guardate anche che bello sfondo con la nostra maglia rosa io ho scelto lakers perché la mia squadra preferita seguo anche il basket è uno sport che mi piace infatti farò anche la reaction credo anche il pronostico sulla finale nba finals di quest'anno stiamo aspettando che terminano le ultime partite della semifinale della seconda semifinale e quindi poi ci sarà ovviamente la finale domani vi ricordo il video del pronostico dell'italia spagna la semifinale finalmente speriamo andiamo in finale vincerla anche ma quella cosa di più arrivare in finale sarebbe una cosa spettacolare praticamente non solo per me ma anche dopo per tutta per tutti l'italia per tutti noi italiani visto che comunque non lo vediamo da un po una finale dal 2006 quindi aspettiamo comunque iniziamo subito la carriera su nba mobile ovviamente ragazzi ecco qui iniziamo la nostra prima partita contro gli Houston Rockets comunque hanno il 55 di fortuna ne abbiamo 70 guardate i lakers iniziamo non so molto come funziona perché è la prima volta che gioco in una stagione quindi non vi so dire molto abbiamo un vantaggio va bene ecco qua iniziamo la nostra stagione allora sono molto concentrato no ok ok abbiamo recuperato palla velocità e i nostri due primi punti eh oh all'ultimissimo tiro da tre ottimo e anche loro il tiro da tre subito dopo il nostro e ora noi ne facciamo un altro fuorissimo ce l'abbiamo fatta nonostante tutto finisce così anche il secondo quarto abbiamo quello da tre tre consecutivi no vabbè non ci credo non ci credo niente stoppata di uscita ancora niente niente e inizia così l'ultimo quarto oh attacco l'ultimo attacco marcatura al massimo non ce la faranno mai fuori anche a due secondi a due secondi a due secondi allora tocca la rete dove essere finita si finisce così allora ragazzi si abbiamo vinto la prima partita su NBA mobile sono contentissimo di aver giocato mi raccomando raggiungiamo i 3 mi piace per il prossimo episodio la prossima è un po' più difficile perché è una squadra un po' più forte questa era un po' pochino polla diciamo è un po' più forte quindi ci saranno moltissime cose anche questa qui tiri da tre stoppata all'ultimo li abbiamo fatto abbiamo dato spettacolo per ora è tutto ok quindi raggiungiamo ovviamente sempre di più la finale ma ci vuole tantissimo tempo ancora la primissima partita quindi ce n'è molta strada da fare ce n'è tantissima ancora che ovviamente faremo insieme se questo video raggiunge i 3 mi piace come ho detto quindi iscrivetevi campanellina iscrivetevi anche al canale di tock e ci vediamo domani per un prossimo episodio ciao ciao ciao